Cassonetti pieni e cartacce sparse per la città. A Roma è differenziato solo il 45% dei rifiuti domestici. Sono 2,3 milioni di tonnellate complessive e, stando agli ultimi dati di Asso Ambiente, solo un milione sono stati raccolti in modo differenziato. In curia dei cittadini o di servizi dell'amministrazione? Nella giornata mondiale del riciclo abbiamo ascoltato i cittadini per capire qual è la situazione e cosa bisognerebbe fare per migliorarla. Funzionano le cose a Roma? Insomma, quando io riciclo e metto carta nella carta e quant'altro, dove vanno a finire i camion? È sempre peggio, è sempre sporco, pur facendo la differenziata però rimane sempre una città sporca mai vista. Ma c'è anche chi la pensa diversamente. No, credo che intanto sia un problema mentale più che logistico, bisogna proprio informare le persone. Le persone non sono diciamo, non rispettano l'ambiente.